Confermata la giudicazione definitiva in merito alla gara d'appalto relativa alla gestione del servizio di nettezza urbana a Modica per i prossimi sette anni. La notizia arriva dopo anni di incertezza e tira e molla tra l'amministrazione e la ditta che gestiva a Modica e servizio di rifiuti, e sempre in maniera provvisoria e con continui rinnovi temporanei di affidamento che creavano notevoli disservizi per i cittadini e per i lavoratori. L'Urega ha convocato ieri tutte le dieci ditte che hanno partecipato, confermando la IGM di Siracusa come la prossima ditta che gestirà questo fondamentale servizio per la città di Modica. Una risoluzione definitiva che arrivò dopo il lunghissimo ITER che la città aspettava da anni. Con l'avvio della nuova gestione si aprirà anche un nuovo capitolo sullo smaltimento dei rifiuti. Finalmente dovrà partire la raccolta differenziata su tutto il territorio, diventata ormai necessaria secondo quanto imposta a livello regionale e nazionale, sui livelli da raggiungere per evitare un surplus di rifiuti in discariche che, dopo l'ultima emergenza, possono raccogliere per ogni comune solo determinate quantità prestabilite. Il resto deve essere differenziato da ogni comune. Secondo quanto annunciato, Modica dovrebbe essere l'unica città della Sicilia ad avere la differenziata porta a porta, sia in città che nelle zone di campagna. Entro un anno si dovrà raggiungere il 65%, questo è l'obiettivo indicato nel bando. Secondo quanto comunicato, già la prossima settimana l'Igm si regherà a Palazzo San Domenico per concordare i tempi e le modalità di insediamento.